buongiorno a tutti allora e intanto scusatemi se non sono stato molto presente negli ultimi giorni però come ben sappiamo tutti stiamo passando una situazione un po particolare quindi questo crea qualche disagio e perciò anche io mi sono dovuto adattare allora a parte questo adesso parliamo di altro e volevo parlarvi dell'american laser disc giochi che comunque già conoscete giochi che conoscete tramite il famoso Daphne però io adesso vi mostro un altro un'altra versione di Daphne che poi in realtà non è una versione di Daphne diciamo che sì non lo so non so neanche come definirla se posso chiamarla una derivazione un qualcosa in più ma sto parlando del singe il singe lo chiamo così non so dirvi la pronuncia esatta comunque vabbè e il singe praticamente a differenza del Daphne da quello che ho capito io faceva girare alcuni giochi che il Daphne non riusciva a far andare ok questo era un po il succo del discorso questo singe si è aggiornato in una versione 2.0 o forse 2.00 addirittura e niente allora adesso vi mostro un po come scaricare insomma le solite cose no dunque passiamo pure di qua perfetto allora qui mi sono già linkato alla pagina a premetto un'altra cosa io qui non ho scoperto nulla di nuovo in realtà io sto facendo un video che già tanti hanno già fatto però magari hanno fatto in inglese e per chi non capisce niente di inglese fa anche fatica un po a capire di conseguenza no quindi ve lo spiego in italiano allora e dunque qui praticamente scorrendo giù nella pagina qui su download abbiamo varie versioni di questo singe 2.0 ok e quindi ci andremo a scaricare praticamente la versione che a noi ci interessa nel mio caso utilizzo windows a 64 bit quindi mi conviene scaricare la versione windows a 64 bit poi se voi avete il linux mac raspberry va dicendo vi scaricate insomma la versione che vi serve e quindi faccio clic su windows 64 bit si apre direttamente il link per scaricare ok io qui ho già scaricato ma come ben sapete mi piace anche farvi vedere questi passaggi ok sono 10 mega circa perfetto prendo il file adesso io per comodità come ben sapete vado a incollarlo sulla scrivania bene possiamo anche fare tranquillamente tranquillamente tasto destro estrai file in così lui si crea un winrar usate winrar si crea una cartella dove dentro andrà a inserire tutti quanti i file dell'emulatore ok questo qui è il contenuto quindi ci troviamo in questa situazione abbiamo praticamente un eseguibile bene e cosa possiamo fare a questo punto io direi possiamo anche già fare un doppio clic in realtà quindi facciamo un doppio clic su questo eseguibile e si apre questa finestra e ci dà anche un errore ok però qui ci arriviamo dopo e la possiamo anche richiudere a questo punto perché comunque non abbiamo giochi non possiamo fare nulla ok nel frattempo si è generato altri file vedete si è generato un una cartella singe dove dentro ha messo delle altre cose si è generato un file menu punto bat ok e dopo c'è un install va bene quello lì lo vediamo dopo ok quindi lui comunque già ha fatto qualcosa e fin qua ci siamo quindi abbiamo scaricato l'emulatore estratto avviato fatto il primo avvio si è aperta quella finestra strana del prompt dei comandi e basta ci ha dato anche errore vabbè ma noi intanto ci fermiamo qua nel senso che al momento per il momento ci interessa questo ora cosa ci manca praticamente torniamo nel sito ufficiale di questo singe 2.0 e anzi sarebbe 2.00 in realtà e dobbiamo scaricare i giochi infatti cosa fanno questi qui praticamente hanno fatto un link interno all'emulatore nella loro pagina quindi su download clicchiamo e ci linka e ci fa scaricare direttamente l'emulatore poi qui hanno messo un aggiunto dei link esterni ad altre pagine dove qui possiamo scaricare direttamente i giochi quindi questo un po mi fa capire che questi link che troviamo di questi giochi magari per adesso vanno magari fra sei mesi non funzionano più quindi mi consiglio se vi interessano vi piacciono questi giochi meglio per voi scaricarli insomma il prima possibile ok un'altra cosa che secondo me ho notato questi giochi sono stati ottimizzati per il singe 2.0 sono proprio dei giochi che secondo me vanno solo con questo tipo di emulatore con il singe 2.0 se provate a utilizzare altri emulatori o magari che ne so il singe vecchio ne so se dopo ci sarà stato qualche versione di Daphne modificate io sinceramente non lo so perché è una cosa che personalmente non è che mi piaccia moltissimo ok in teoria non dovrebbero andare però questo dovete provarlo voi a me sinceramente non è nei miei interessi ok quindi esempio voglio scaricarmi mad dog mccree benissimo andrò a cliccare su mad dog mccree per esempio poi comunque qui sotto abbiamo anche altri giochi perché ah sì un'altra cosa diciamo che il singe 2.0 sarebbe più indicato per i giochi da sparare ok quindi mad dog mccree crime patrol ok più che altro per gli altri giochi a quanto pare si utilizza ancora il Daphne ok però vi ripeto io è quello che ho dedotto io eh dopo a me interessa il singe 2.0 perché avendo la him track mi interessa utilizzarla con la pistola utilizzarla con la pistola ok allora qui mad dog mccree faccio clic e si apre un link esterno e qui dentro andremo a scaricare il gioco in questo caso si apre il sito archive.org un sito famosissimo che comunque dentro si trova di tutto e di più e qui di fianco abbiamo vedete o il file zippato possiamo scaricarlo direttamente 1 giga e 7 mi da qui vedete 1 giga 1.7 giga oppure il file torrent che dopo apriamo il nostro client torrent ci andremo a scaricare tramite torrent adesso vi faccio vedere un attimo direttamente lo zip quindi clicco qui probabilmente mi si apre un'altra pagina no questa volta me l'ha me l'ha diciamo fatto scaricare direttamente può essere che magari provando altri giochi e vi fa aprire altri siti adesso qui faccio a via download me lo scarichi l'ho già fatto quindi non lo faccio richiudo la pagina proviamo ad esempio con crime patrol vediamo se mi apre sempre no mi apre sempre archive.org tanto meglio 2 giga e mezzo clicco vediamo cosa succede se me lo fa perfetto allora meglio così annullo perché comunque l'ho già scaricato e quindi qua fa link diretti e ok allora giochi scaricati cosa dobbiamo fare adesso apriamo la cartella dell'emulatore vado a prendere praticamente i due file no dei giochi ok e questi qui praticamente dobbiamo semplicemente estrarli all'interno della cartella dell'emulatore mantenendoli dentro la loro cartella quindi esempio io prendo crime anzi no facciamo my dog mccree è più leggero tasto destro e andrò a fare estrai qui nel senso se io entro dentro il file e vado a verificare cosa c'è trovo una cartella io voglio che questa cartella resti dentro la cartella principale dell'emulatore possiamo o fare doppio click prendere la cartella rascinarla brutalmente dentro io di solito non faccio mai così faccio tasto destro se so che dentro ho una sola cartella andrò a fare estrai qui ok dipende sono sempre metodi sistemi diversi per arrivare allo stesso risultato lì dovete trovare un po' un po' voi il vostro sistema quindi qui aspettiamo un attimo si estrae ok vedete mi ha creato la cartella mad dog mccree singe 2 è anche scritto in realtà quindi probabilmente questi giochi vanno solo con questo singe 2 se entro dentro la cartella del gioco vedete qui abbiamo i file con i video insomma è tutti quanti i file necessari per far girare il gioco a questo punto facciamo anche facciamo un'estrazione anche di crime patrol stessa cosa tasto destro estrai qui perché so che dentro c'è una cartella estrago anche l'altro crime patrol perché voglio farvi vedere una cosa perché qui dentro questo singe 2.00 sarebbe no 2.0 ma 2.00 e ci dà praticamente già anche un launcher quindi facciamo doppio click abbiamo una bella intro bella abbiamo un intro e lì possiamo andare a scegliere i giochi già in un launcher adesso vi faccio vedere allora e dunque i giochi li abbiamo estratti facciamo una cosa prima facciamo doppio click di nuovo su singe diciamo sull'emulatore doppio click si apre sempre questa cartella ci dà sempre errore ma non è questo il problema allora questo questo qui è un menu praticamente non è tanto un menu ci fa ci mostra i comandi che possiamo dare creando uno script specifico per i vari giochi adesso ho detta così un po' un po' incasinata però io vi traduco in questo modo cioè in realtà tutto questo non è che ci serva chissà cosa quindi nel senso se volete forzare l'aspect ratio di quel gioco nello script che si va a creare ma che comunque noi non creiamo e non vi mostro neanche come crearlo perché sinceramente a me non mi interessa se dopo qualcuno di voi interesserà me lo chiederete voi e vedrò di accontentarvi dovrò inserire questo comando trattino a meno a ok se voglio ad esempio killare quindi non visualizzare la splash screen dovrò inserire meno k ok sono tutti dei comandi se voglio strecciare il video metterò meno u ok sono queste cose ma personalmente io sono un maniaco dell'aspect ratio corretto quindi 4 terzi non ho avuto bisogno assolutamente di impostare nulla anzi più che altro ad esempio qui per farvi un esempio c'è il cross side vedete no cross side si può togliere il mirino diciamo no perché così diventa più più bello da giocare se usate una pistola e andrò a mettere meno n però questa cosa qui volendo si può bypassare entrando dopo vi faccio vedere dentro la cartella del gioco e manda a modificare un file quindi in realtà lo script può servire sì ma non è detto che vi salva per forza ok quindi qui qui in alto ecco è spiegato come impostarlo praticamente però vi ripeto io ora non ve lo spiego sappiate che si può creare questa cosa lo chiudo i giochi li abbiamo e l'emulatore c'è in teoria non ci manca niente quindi cosa andiamo a fare adesso doppio clic su menu punto bat ho preso paura è il volume altissimo ok vedete c'è un launcher se io adesso con la tastiera mi sposto vedete Mad Dog McCree e Crime Patrol quindi qui per selezionare il gioco posso fare tranquillamente cliccare anche con il mouse qui si fa la scenetta diciamo della lettura del disco ok il gioco va che è una meraviglia ok e i comandi dovrebbero essere sì tasto 5 inseriamo il credito tasto 1 cominciamo vedete adesso muovo il mouse perché sto utilizzando il mouse questa volta quindi abbiamo ecco sì abbiamo tasto sinistro si spara tasto destro si ricarica ok quindi se utilizzate ecco qui va bene non mi ha preso niente io questi giochi qua proprio non mi sono mai piaciuti più di tanto no qua ho scaricato l'arma ok e qui si va avanti quindi diciamo con un utilizzo di mouse siamo obbligati ad avere un crosshair altrimenti non so dove sto sparando dove sto mirando ok siamo avanti ecco questo l'ho fatto fuori ok esc e si torna indietro al menu principale del launcher sposto cambio gioco premo o qui premo il tasso sinistro forse anche invio no premo il tasso sinistro del mouse e mi fa avviare il gioco un attimo ok qui c'è la intro non so possiamo ora fa passare 5 ceriamo il credito 1 si comincia e andiamo a scegliere il livello e si comincia insomma ragazzi questo è quanto non neanche colpito però eh si vabbè ok a me questi giochi non lo so non anche perché bisogna beccare il momento esatto di quando sparare perché tu non puoi se spari prima non fa niente se spari dopo quel momento non fa niente se hai perso ed è anche difficile a volte capire il momento esatto in cui posso uccidere diciamo un criminale in questo caso ok vabbè comunque sono giochi fatti un po' così esc si esce esc e praticamente si chiude ma possiamo chiudere questa finestra e siamo a posto siamo usciti dal gioco bene allora ragazzi se avete dubbi problemi incertezze scrivetemi nei commenti io se posso vi rispondo se non so cerco di rispondere io stesso e attivate la campanella scrivetevi al canale se vi piace chiaramente il video o se vi piacciono i video che faccio e poi se volete seguirmi su Twitch faccio delle live al momento sono un attimo fermo che sto aspettando vediamo se arriva questa benedetta connessione un po' più veloce diciamo e e basta ragazzi quindi con questo vi saluto e ci vediamo in in un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti